Mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo mistero doloroso, contempliamo Gesù che agonizza nel Gezzemani. Dal Vangelo secondo Matteo. L'anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo, Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Preghiamo questa prima decina perché la preghiera sostenga l'impegno a rendere concreta la volontà di Dio nella nostra vita e per tutte le persone in preda all'angoscia e alla paura a causa della pandemia. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetti il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, recitiamo insieme. L'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetti il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetti il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetti il frutto del tuo seno Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetti il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetti il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetti il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetti il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetti il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetti il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria ai Padri, ai Figli e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre corpi, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero doloroso, contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Dal Vangelo secondo Matteo, chiese loro Pilato, ma allora che farò di Gesù chiamato Cristo? Tutti risposero, sia crocifisso. Ed egli disse, ma che male ha fatto? Essi allora gridavano più forte, sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi». E tutto il popolo rispose «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Preghiamo perché trionfi sempre la scelta del bene sul male, e per tutti coloro che vivono situazioni di ingiustizia e sopruso, negli ambienti sociali e di lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero doloroso, contempliamo Gesù coronato di spine, dal Vangelo secondo Matteo. Allora i soldati del Governatore condussero Gesù nel pretorio, e li radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo, e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei! Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna, e lo percotevano sul capo. Preghiamo, perché impariamo a essere persone libere dal falso potere, e per tutti coloro che rivestono ruoli di responsabilità e di rilievo nella comunità civile e religiosa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, così come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Prima di continuare la preghiera, invitiamo tutti a coltivare il silenzio e il raccoglimento. Ci prepariamo tra poco all'inizio della solenne celebrazione. Vi invitiamo a rispondere, a partecipare attivamente alla Santa Messa, a silenziare tutti i dispositivi cellulari, a mantenere sempre le distanze interpersonali e a portare correttamente la mascherina. Al momento della Santa Comunione, resteremo ai nostri posti. Chi desidera ricevere l'eucarestia, si terrà in piedi, porgendo le mani, utilizzando la propria soluzione idroalcolica. I ministri incaricati raggiungeranno tutti i settori per la distribuzione della Santa Comunione. Ricordiamo che le offerte raccolte saranno devolute per le esigenze della carità. Raccomandiamo altresì ai fotografi, ai cameraman, di portarsi nelle postazioni loro assegnate e di liberare la zona antistante l'altare in modo tale che il rito possa avere inizio di qui a qualche minuto. Quindi preghiamo tutti gli operatori dell'informazione di raggiungere la tribuna a loro riservata. Grazie. Manteniamo il raccoglimento e il silenzio continuando la preghiera del Santo Rosario. Nel quarto mistero doloroso, Gesù carico della croce, sale il Calvario. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce. Preghiamo perché impariamo a seguire Gesù portando ogni giorno la nostra croce e per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito all'interno delle nostre famiglie. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ed ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia. nel quinto mistero del dolore Gesù muore in croce dal Vangelo secondo Matteo a mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio verso le tre Gesù gridò a gran voce e lì e lì le Maxabattani che significa Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato? Udendo questo alcuni dei presenti dicevano Costui chiama Elia e subito uno di loro corse a prendere una spugna la inzuppò di aceto la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano Lascia vediamo se viene Elia a salvarlo ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo Spirito Preghiamo perché sappiamo amare fino al dono totale di noi stessi e perché lo Spirito susciti nuove vocazioni a servizio della Chiesa e dell'umanità Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli Amen Gesù mio perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia abbiamo concluso insieme la recita del Santo Rosario comincia la celebrazione eucaristica invito tutti a sedersi a predisporsi spiritualmente a questo momento di grande intensità e di grande partecipazione che esige il silenzio il rispetto assoluto rinnoviamo l'invito a spegnere i cellulari a non parlare a mantenere la distanza e usare correttamente le mascherine e proiettiamoci in questa grande bellezza nel mistero d'amore del nostro patrono un mistero d'amore che nel Vangelo che reciteremo e nella esaltazione delle beatitudini trova con il discorso della montagna il senso e la prospettiva del nostro impegno comincia la celebrazione eucaristica in onore del patrono evangelista San Matteo � Chiara Garzillo di infusedina della mia del Dongo il atte di Marinescom libera sing Grazie a tutti. 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 Parola del Signore. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. a tutti. e 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 a tutti.